Ennesimo odissea per i pendolari molisani che hanno la sfortuna di avere a che fare con Trenitalia. Questa mattina l'autobus sostitutivo del treno Campobasso Roma, che doveva partire alle 6.30, dal piazzale antistante alla stazione del cabloco di Regione, non è arrivato. Ovviamente non è dato sapere cosa abbia provocato questo ennesimo disservizio, un episodio senza dubbio spiacevole, specialmente per chi resta a terra, ed è costretto a trovare mezzi alternativi per raggiungere la capitale. Qualcuno ha chiamato anche i carabinieri per denunciare l'interruzione di pubblico servizio. Alle 7.20, infine, con circa un'ora di ritardo, è arrivato l'autobus sostitutivo dell'autobus non arrivato. Una situazione al limite del grottesco, degna di un film di fantozzi.